Che fai, figliolo? Che fai? Buongiorno, Paolo. Una piccola elemosina per Sant'Antonio? Mi dispiace, sono uscita così. Oh, non importa. Sarà per un'altra volta. L'importante è di essere sempre in grazia di Dio. E tu lo sei in grazia di Dio, è vero, figliolo? No. Non sei in grazia di Dio. Eh, no. Oh. E perché? Bisogna essere in grazia di Dio. Chi vive in grazia di Dio è contento. Io sto in grazia di Dio e sono contento. Io sono stata pure la Madonna del Divino Amore per chiedergliela grazia. Forse non avrei saputo chiedere, oppure non ne avrei avuto bisogno. Sei sposata. Male, le ragazze si devono sposare e mettere al mondo dei figlioli. Il matrimonio è una cosa santa. Eh, in grazia di Dio, figliola. Tieni, raccomandati a Sant'Antonio. E se hai bisogno di me, io mi chiamo frate Giovanni. Sto al conventino di San Francesco. Ma chissà se mi trovi. Sto sempre in giro io.